Io sono Isidoro Castello e sono dell'Opificio delle Pietridure di Firenze e siamo in questa sede all'Expo di Shanghai nel laboratorio del fare a rappresentare il laboratorio del settore lapidio dell'Opificio. Quello che si vuole rappresentare all'Expo è per l'appunto la vecchia metodologia della scultura in uso nei laboratori dell'Opificio abbinata alle nuove tecnologie come ad esempio potete notare la metodologia laser. Adesso noi abbiamo portato delle sculture tra cui una testa e due fanciulli attribuiti a Del Perugia. Qui abbiamo il mio collega Stefano Pasolini che sta effettuando un lavoro in tarsia, il mio collega Leonardo Pagni sta effettuando un lavoro un po' a fantasia per poi essere calcato ed eseguire un lavoro con la macchina dei punti per la scultura. Abbiamo la collega Eleonora Gioventù che sta effettuando sempre un lavoro di tarsia con un metodo innovativo, il metodo della calamita, cioè il metodo della di versibilizzare. Grazie a tutti.